buongiorno a tutti questo è un onchio integra a 8067 va col trasformatore perché americano da 110 a 220 funziona solo un canale adesso faccio la registrazione poi metto pausa collego il valvolare e metto lo stesso canale poi in guffia si percepisce la differenza di qualità eppure sembra un classe a b contro un classe a b figuriamoci con un classe d è più pulita è più è meno sporca è come se si leva la nebbia da sto segnale quando collego il valvolare adesso registriamo sto sto ganale qua a 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 e niente è più pulita cazzo no ci avrà meno passi però la pulizia è migliore dopo questo già più bassi però la musica è più sporca se uno mette su un finalone fatto bene a mosfet c'è la stessa qualità solo che c'è i passi la pulizia è tutto e niente se c'è differenza fra classe a b e classe a b figuriamoci un classe d vi saluto